Chiave Servono munizioni Ho finito i colpi Mi squarterò personalmente Non mi squarterò personalmente Il mio controllo potenzia anche l'essere più in fio Non vi concederò il lusso di scelta Red, prendete buio Sto venendo a prenderlo Red! 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 Red. Red! Più veloci! Il test finirà prima ancora a ricominciare Sapete fare di meglio? È giunta la vostra fine! Cevite inutile! E ora, tremate ancora di più! Come mai non siete morti tutti? Il momento può bastare! Ma dovrò ripetere l'esperimento!